Ciao a tutti fifomani, io sono Ricky e oggi vi do il benvenuto in quest'altro tipo di video simile al video col Milan che vi è piaciuto proprio tantissimo Vi sono grato di questo, quindi ragazzi è un video dedicato a tre leggende della serie A Tony, Di Natale e Close, Miroslav Close Era necessario fare un video per loro perché veramente sono dei grandissimi campioni Anche in questo caso non fatevi scappare la lacrimuccia, ci ho messo veramente più di una settimana perché è complessissimo, se si può dire così, il video Vi consiglio di vederlo, un piccolo piacere, se il video vi è piaciuto, solo se vi è piaciuto, condividete questo video sulle vostre bagheche Facebook, Twitter, dove volete così Magari mi aiutate a crescere, non vi rubo altro tempo e vi mando nel video Ciao a tutti da Ricky Ciao a tutti 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 Ciao a tutti